Allora Matteo Bergassola, un derby molto combattuto ma una vittoria meritata direi quella dell'MB tutto sommato. Sì, grazie. Il Cepanana è una squadra molto forte, all'inizio siamo partiti molto male, però ci siamo ripresi e l'importante è che abbiamo vinto. Quando sono entrato ero molto emozionato, avevo anche un po' di paura, però è andata bene, ho fatto anche il mio primo punto della Serie C. Sì, continuo l'inseguimento alla testa della classifica da parte dell'MB, tu hai accennato a questo tuo primo punto in campionato, in prima squadra, dopo il recentissimo debutto. Come ci si sente? 14 anni, primo punto in questa magnifica serata, dovresti essere molto ma molto contento. Sì, sono molto soddisfatto e molto contento e speriamo di continuare così.